Stimatissimi Vapors, benvenuti nel mio mondo. Oggi cercherò di farvi vedere un prodotto che è un buon rapporto qualità prezzo. A volte vado in cerca di determinati prodotti per trovare alcune cose che abbiano una buona funzionalità e un costo estremamente basso. Per chi si approccia nel mondo del button feeder, l'approccio di una box di natura elettronica è un passo obbligatorio. Innanzi a me ho la Anita Mod, costruita e prodotta dalla Arctic Dolphin. Questa è la scatola in cui vi arriva l'oggetto. La nostra Anita Mod, button feeder, circuitata, offre diverse soluzioni. Possiamo avere il case in alluminio o come nel mio caso nella modalità ABS. E tre colorazioni diverse, possiamo avere il nero, il grigio o l'argento. In questo caso io vi farò vedere la soluzione ABS e nera con i portellini con effetto wood legno. Nella parte posteriore troviamo le sue caratteristiche tecniche. Qui dice che ha un controllo della potenza da 5 a 100 Watt. Le resistenze nella modalità Watt contemplate con questo circuito sono da 0,1 a 2,5 Ohm. E nella modalità del controllo della temperatura andiamo da 0,06 Ohm a 1 Ohm. Il voltaggio è da 3,1 a 4,3. Aperta la confezione, questo è quello che ci troviamo al suo interno. Abbiamo la nostra Anita Mod, un portellino addizionale che poi vi faccio vedere perché secondo me è una genialata. Un adattatore, un cavetto per andare a ricaricare la vostra batteria, un manuale di utilizzo e un certificato di garanzia. Il manuale d'uso è tutto in inglese ma cercherò a grandi linee di farvi vedere io come funziona almeno le caratteristiche principali del circuito. Come da figura abbiamo un connettore 510, il tasto dell'accensione, il nostro piccolo schermo, i pulsantini, up e down, la porta USB. Queste sono le parti che realmente ci interessano. Iniziamo a parlare di questo adattatore. Questo è un piccolo adattatore che riporta la polarità della vostra batteria al suo interno inserendo una 18650 perché la nostra Anita Mod può installare al suo interno 18650, 2700 e 21700. Quindi sì una box di natura economica ma anche molto flessibile. Potete utilizzare le classiche 18650 ma se volete, se desiderate avere un'autonomia maggiore della vostra box, la Anita Mod vi offre la possibilità di installare anche le 2700 e le 21700. Questo portellino a cosa serve? Trasforma la vostra box in modalità BF in una box circuitata, semplicemente non utilizzando più l'asola per il vostro bottom feeder ma una normale box circuitata. Quindi potete installare un tank oppure un atomizzatore in cui desiderate fare il refill dalla parte superiore del vostro atomizzatore in cui non possiede una modalità con il pin forato in soluzione bottom feeder ma utilizzarla come una semplice box circuitata, semplicemente andando a sostituire il portellino dato in dotazione. Questa è l'Anita. Le dimensioni della nostra Anita Mod sono 30 mm nella sua parte più larga perché ha una leggera bombatura al centro. Prendendovi anche il tasto abbiamo 57 mm ed è alta. 91 mm certo è un po' più alta rispetto alle classiche box. Il fatto che possa installare dalla 21700 alla 2700 alla 18650 fanno sì che queste dimensioni sono obbligate. Boccetta super soft al suo interno, anche questa direttamente prodotta dalla Dolphin è naturalmente per vedere se la boccetta qualitativamente è buona il classico test. La boccetta regge nella modalità sottovuoto quindi sappiamo che non avremo perdite. Questa è la tazza della nostra Anita Mod che ha un diametro di 20 mm ma può ospitare un atomizzatore fino a 24 mm senza poi uscire dai margini. Con questo effetto legno devo dire che è veramente simpatica. Questo è il materiale plastico ABS, ecco la scritta Anita. Vista frontalmente abbiamo il nostro piccolo mini USB per eventualmente dover fare la nostra ricarica. Il tasto più e meno è il nostro tasto fire. Se utilizziamo questo sportellino qua l'apertura è molto semplice, basta inserire il dito all'interno e l'apriamo. Abbiamo due magneti nella parte inferiore e nella parte superiore che andranno in contatto con altri due magneti che si trovano nascosti da queste parti in ABS. Abbiamo l'indicazione sia del positivo che del negativo, questo è quello che esce del nostro pin della nostra tazza e schiacciando qui possiamo togliere anche l'altro sportellino. In questo caso un magnete è a vista. Il fatto che ci sia un secondo sportellino non puramente estetico ma per darvi la possibilità se non vi trovate bene con l'utilizzo dell'aceto per l'espulsione della batteria inserendo due dita qui potete tranquillamente fare l'espulsione della vostra batteria. E questa seconda asola vi aiuta per spingere fuori la boccetta button feeder per poter fare il refill. Le sue particolarità interne ecco il nostro positivo con il pin fisso mentre il negativo il contatto è a molla. Questa è la sezione del pin della nostra tazza che fuoriesce nella parte del diametro inferiore verrà infilata la nostra cannuccia della nostra boccetta con la dicitura Arctic Dolphin. Il modello Anita ecco la nostra tazza con pin fluttuante, l'isolatore che si trova ai bordi del pin devo dire che è fatto bene. Naturalmente è tutto chiuso, la parte circuitata come vedete è ben isolata dalla sezione button feeder e alimentazione. Queste sono le tre tipologie di batterie che grazie al nostro adattatore la nostra Anita Mode può installare al suo interno. Abbiamo la nostra 18650, una 20700, una 21700 e l'adattatore per la 18650. Vediamo come funziona. Prendiamo la nostra 18650 con l'adattatore e mettiamo l'adattatore nella parte del negativo. Con l'effetto a molla posizioniamo il nostro negativo e la nostra 18650 è inserita automaticamente. 5 clic e la nostra Anita si attiva. Ulteriori 5 clic e il circuito si chiude. L'estrazione è molto semplice, lo possiamo fare con il nostro laccetto così oppure installiamo una 2700. Ecco come si presenta con una 2700. 21700, la inseriamo al suo interno. Questa è la 21700 installata e la nostra box è attivata. Come vedete come indicazioni abbiamo dalla parte alta il livello della batteria, siamo su potenza, espressi con il numero più grande abbiamo i Watt, gli Ohm, quindi il valore resistivo eletto del nostro atomizzatore, i Volt, gli Ampere e il logo Anita. Tenendo premuti il tasto più e meno contemporaneamente entriamo nelle impostazioni della nostra Anita Mod e le voci che ci vengono date sono Power Level che con il tasto Fire entriamo dentro, regoliamo la potenza da erogare, quindi potremmo scegliere la modalità Soft, quindi morbida, una potenza erogata normale oppure un Hard, non sarebbe altro che un piccolo BOST di potenza in più che vi viene data. Con il tasto Fire confermate, poi entriamo nella modalità Controllo della Temperatura in cui andremo a scegliere i materiali da utilizzare. In questo caso avremo il Ni200, l'acciaio, il titanio o lavoriamo in modalità TCR. L'unità di temperatura, se Celsius o Fahrenheit. Stand By Time che non è altro che vi limita in secondi il tempo che può essere tenuto attivato il tasto Fire dopodiché la box si blocca. Il controllo del contrasto del nostro display, il conteggio dei nostri Puff, quindi dei nostri tiri, delle nostre attivazioni e il numero seriale. Facendo 3 click del Fire cambiamo le nostre modalità. Abbiamo il controllo della potenza, quindi dove con il tasto più e meno gestiremo i nostri Watt. 3 click, entriamo nella modalità del controllo della temperatura, in questo caso con l'impostazione che avevo lasciato io in acciaio. Da qui potremo controllare la temperatura da noi desiderata. Con 3 click entriamo nelle impostazioni. Possiamo modificare tutte le nostre curve e cosa interessante abbiamo la modalità Bypass, quella che ci permette di utilizzare la nostra box circuitata come fosse una box di natura meccanica. Una volta certificata la bontà della nostra boccetta Bottom Feeder l'abbiamo riempita. Ho preinstallato un atomizzatore per evitare la fuoriuscita del liquido quando andrò a incastrarla al suo interno. Operazione molto semplice, non mi ha creato alcuna difficoltà. Ora inserisco la batteria. Ho montato su una 18650 con l'adattatore perché molto presumibilmente è quella che abbiamo più comunemente nelle nostre case. Vado a chiudere ma prima di accendere la nostra box, trattandosi di una modalità Bottom Feeder per me è doveroso controllare anche il test dello squonk. Verifichiamo. La boccetta ha un buonissimo risucchio. Vedete che il liquido in eccedenza viene direttamente riassorbito, quindi è perfetto. Mi attivo un attimo il cotone e poi partiamo. Il nostro cotone è pronto. Ho utilizzato una rigenerazione con dell'acciaio 316 perché volevo anche verificare come funziona il controllo della temperatura. Ho inserito il mio cap e faccio subito un test. La box va molto bene. Ora potrei fargli un sacco di modifiche al mio menu ma vado a cliccare tre volte per andare in controllo della temperatura con l'acciaio. 270 gradi Celsius è il valore una volta che la coil si è riscaldata perché se vado a scendere andrà a strozzarmi l'erogazione della potenza. Guardate a 270 gradi, rimangono costanti i 3.8 volt. Vado a scendere leggermente con il valore in temperatura. Ora la coil è calda. Tiene ancora. Vedete scende 3.4. Quindi in base ai gradi che io vado a impostare avrò un'erogazione di conseguenza. Io ora mi rimetto i miei 260 gradi per avere i 3.8 volt e lo testiamo in controllo della temperatura. Anita Mod Arctic Dolphin. La box va bene. Ha le caratteristiche basi veramente per approcciarsi nel mondo della modalità bottom feeder, del controllo della temperatura con l'opzione bypass per avere un approccio semi meccanico ma gestito da un circuito. Perché ricordo sempre che passare alla modalità meccanica è uno degli ultimi step che si deve fare, è un'evoluzione dello svapo. Pertanto una box che ha un costo veramente basso offre tutte le soluzioni. Dalla tipologia delle batterie, delle 18650, 2700, 21700, al controllo della potenza, alla possibilità di andare in controllo della temperatura, alla modalità bypass, quindi in modalità semi meccanica ma protetti con un circuito, addirittura sostituendo il portellino possiamo utilizzarla anche per atomizzatori che non hanno il PIN BF o in modalità tank. Quindi andiamo a occludere questa asola e utilizzare una box come una semplice circuitata per i nostri tank. Una box flessibile, ha un costo bassissimo, molto elastica, si presta bene per qualsiasi cosa come box entry level. Con le 21700 vi posso garantire che l'autonomia è veramente esagerata, il lato estetico indubbiamente sulle box è rilevante. Ho utilizzato l'acciaio per il controllo della temperatura perché l'acciaio è uno dei primi fili che subisce una variazione di impedenza alzando le sue temperature. Quindi è uno dei fili più semplici per approcciarsi al controllo della temperatura. Anche qui vi sto dando un input, non partite magari subito con un NIFE 30, con un NIFE 200, con un filo in titanio che richiede informazioni di base sui controlli della temperatura, è sui gradi da utilizzare in base alla tipologia di filo che andate a utilizzare, ma l'acciaio è uno dei primi fili che può essere gestito con il controllo della temperatura. Quindi piccoli step, piccoli passi. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale perché voi siete la mia energia, voi siete la mia 18650. E un saluto anche dalle mie mani. Anita Maud by Arctic Dolphin E un saluto anche dalle mie mani.